...perché non avevo capito. Ma veramente non l'avevi capito? Ho capito che avevamo vinto. Ero già a terra a rigore di Giorginio. Ero già a terra a rigore di Giorginio che pensavo che era finita, invece ho dovuto... Pensavo che l'avessi fatta apposta, che volevi fare... No, non avevo capito. Su rigore di Giorginio ero già giù. Ma non hai visto che ti venivano ad abbracciare, diciamo abbiamo vinto per davvero. Poi ho guardato, perché adesso con la VAR guardano sempre i piedi che non puoi essere davanti, no? Quindi guardavo l'abito, cercavo di capire se era tutto ok. Poi mi sono girato, ho guardato i miei compagni che venivano verso di me, da lì è partito tutto. Non ho capito più niente. No, è stato un europeo straordinario, grazie anche ai miei compagni, davvero abbiamo un rapporto tutti incredibile. Siamo veramente una famiglia. Diciamo che... Grazie. Grazie. Grazie.